Buongiorno a tutti, oggi è domenica 13 settembre e parliamo di analisi ciclica evoluta su Bitcoin finalmente. Me l'avete chiesto talmente tanto che effettivamente ho pensato che fosse il momento di trovare il tempo per fare un'altra analisi. Allora, come dicevamo, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti al fatto che questa poteva non essere la partenza di un nuovo TP3 ed eccoci qua, a mio avviso il TP3 ha chiuso qui a 77 barre ed è partito con una gran bella forza, una gran bella spinta, il secondo TP3 inverso. Sto sempre parlando di inverso, ovviamente ciclica dei massimi. Che cosa ci fa dire che sia possibile questa cosa? A parte la spinta, direi, interessante a ribasso che ci ha portato da oltre i 12.500 circa ai 10.000 e anche sotto i 10.000, ce lo dice naturalmente il tempo, oltre alla violazione degli swing, il tempo. Siamo arrivati a 27 barre di TP2 partito insieme qui al TP3 e con un TP2 rialzista abbiamo persino un TP4 in partenza eventualmente, per cui la spinta c'è e come. Se andassimo a controllare qua, vedremo che da qui a qui sono passate 186 barre. 186 barre facciamo 86 per 2. Ok, questo è più di un semplice TP4, per cui primo TP4, secondo TP4 inverso e adesso facciamo la seconda parte del TP4 inverso, ok? Il TP4 inverso si è già vincolato però appunto a ribasso, ovvero rialzo per i prezzi di Bitcoin e quindi, come vi dicevo, dopo una spinta iniziale, piano piano torneremo a salire. La nostra spinta, peraltro, di che grado è stata? Vi faccio notare soltanto con questo adeguamento del grafico che livello di spinta abbiamo avuto dopo una discesa fortissima che ha portato i prezzi a 3850 dollari e poi ha moltiplicato per tre praticamente quasi la capitalizzazione, per cui il bear market è morto e sepolto da quando siamo arrivati già in quest'area qua. Allora, anche in questo caso, utilizziamo un semplice strumento come Fibonacci e vediamo a che punto siamo arrivati. Il punto è che siamo arrivati a un ritracciamento, ma guarda tu, quasi a un ritracciamento, del, di questo livello qua, di oltre il 30%, ok, dai massimi. Siamo scesi oltre il 23,6. Però adesso vedremo che considerazione bisogna fare ritornando a quella che è la scala più adeguata a guardare gli ultimi movimenti. Allora, come detto, partiamo da indice. A che punto siamo di indice? Ce lo dice qua, questo minimo. 73 barre, a caso mia, fanno un T più 2. Quindi, scusate, un T più 3, ovvero un trimestrale. Chiusura, partenza, eventuale di che cosa? Per adesso, con quasi un settimanale a rialzo, possiamo dire di un T più 2, ma dovremmo avere qualche cosa di più. Attenzione sempre ai raccordi, come al solito, perché guardate quanti ce ne sono, una quantità spaventosa, ok? Finta rialzo, ritorno in giù e poi di nuovo si va a risalire. Per cui fate sempre attenzione, perché ci sono, ce ne sono stati parecchi in questo ultimo periodo rispetto al passato. Comunque, se da qui deve partire qualche cosa, abbiamo che l'inverso è vincolato a ribasso, però rialzo per i prezzi. Il primo target, a cui dovremmo tendere, dovrebbe essere questo. I 10.687, che sono a livello inferiore della CUMO. Successivamente, la media mobile a 50 periodi, a 11.271 dollari. Ma, 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 ricordiamoci che da qui sta partendo, da questo minimo sta partendo un ciclo settimanale che è arrivato a 5 giorni su minimo, ne può fare 6. Quindi proverà ancora a spingere, ma potrebbe esserci una giornata di discesa, con poi ripartenza effettiva a salire. E per quanto riguarda il nostro inverso, a che punto siamo? Per quanto riguarda l'inverso, qui siamo arrivati soltanto a 27 barre su massimo 44, ripeto, scusate, 43, 43, di durata. La durata minima delle 24 barre l'abbiamo superata ampiamente, però nulla vieta che si debba provare ancora ad aggiornare i massimi. Nel nostro caso, se partiamo da questa candela, abbiamo che noi siamo arrivati comunque a 6 barre, quindi potrebbe andare in chiusura, e qui lo aggiorno, provare un paio di giorni a scendere, facendo chiudere il primo t settimanale, e poi ripartire a salire. Lo può fare da oggi in avanti, ok? Perché anche in questo caso siamo a 6, ma si può tranquillamente arrivare a 11, per cui può continuare a salire. Con l'attenzione che, dato che questo, che tra virgolette comanda perché più avanti, è a 6 giorni rispetto agli 11 massimi e agli 8 medi, e questo è a 5, ecco, taratevi su quello, che questo può chiudere e provocare per lo meno due giorni orientativi di ribasso, per poi ritornare a micolarsi, a rialzo. Due giorni minimi perché è sempre la condizione minima per far partire un altro t inverso. E noi, anche in questo caso, siamo a 1 e 2, e da qui, teoricamente, potremmo fare anche soltanto un 3 tempi, quindi andare in chiusura, serena, come detto, del t più 2 mensile inverso, che è già arrivato, come detto, a 27 barre. In quel caso non basterebbero due giorni di discesa. Avremmo bisogno, perlomeno, di un... 6 giorni lateral rialzisti, quindi ribassisti, di l'indice. Ok? Però prima vediamo se chiude attorno magari a 30, 32, un pochino più in alto. Altre cose in particolare da dirsi, nessuna, per cui, anzi, prima di tutto, se l'analisi la ritenete valida, registratevi al canale, cliccando su iscriviti, cliccate anche sulla campanella se siete interessati a sapere quando uscirà il nuovo video e non volete aspettare. Se volete fare un passo in avanti, venite nella community gratuita che c'è su Facebook di Financial Armor, la mia, e lì potete fare tutte le domande che volete, gratuitamente, senza nessuna spesa, nessuna cosa, serve per la formazione, ok? Sull'analisi ciclica evoluta. Visto che da gennaio 2018, quando ho iniziato a fare le prime analisi su Bitcoin, abbiamo avuto più risultati estremamente positivi che risultati mediocri, se non per pochissimi giorni, appunto, magari può essere una cosa interessante venire ad ascoltare e soprattutto imparare la ciclica evoluta che può essere applicata a qualsiasi tipo di mercato o asset, compreso Bitcoin. Le dimostrazioni ci sono su TradingView e sul mio canale, appunto, YouTube ormai da mesi e non sono cancellabili per cui la prova è lampante. Cosa volete fare? Volete continuare a provare ad ascoltare a destra e manca per capire se vi trovate di fronte un bravo trader oppure se contano le notizie rispetto a quelli che sono in realtà dei movimenti dati da degli algoritmi chiamati HFT? Volete continuare a dipendere dagli altri oppure volete iniziare a fare le cose da voi? Splendide domenica a tutti!